buongiorno buongiorno Vito Mancuso buongiorno Armando ciao ciao Armando ciao Vito partiamo subito confidenzialmente buongiorno a tutte le persone che sono collegate qui con noi e grazie per esserci e tra l'altro questa volta noi abbiamo ben due motivi uno più bello dell'altro per essere per essere qui allora il primo di questi motivi è l'uscita imminente del nuovo libro di Vito Mancuso che nelle librerie arriverà giovedì prossimo giovedì 25 ed è il coraggio e la paura edito da Garzanti la seconda ragione per essere qui è che questa è l'anteprima di Torino spiritualità che è una bella notizia perché vuol dire che Torino spiritualità ci sarà ci sarà settembre come c'è stato sempre da 16 anni a questa parte io ne sono molto felice non era non era poi una cosa scontata nel senso che l'enormità di tutto quello che abbiamo attraversato ha insomma ha indotto a ragionare su una serie di cose anche ha obbligato a ripensarsi no fare anche dei ripensamenti per capire esattamente il senso il senso che uno può ritagliare per se stesso poi però proprio di fronte a questa dismisura ci siamo detti che forse quello era l'elemento che ci che ci avrebbe dovuto indurre a esserci come Torino spiritualità perché alla fine noi in questi anni parlando di spiritualità abbiamo sempre parlato di dismisura abbiamo sempre parlato di quelle circostanze nelle quali sei obbligato a fare i conti con una enormità che hai di fronte che ti abbraccia che ti spaventa che ti accoglie che ti induce a essere proiettato altrove e che ti fa ragionare sulla tua fragilità di essere piccolo ma anche sulla grandezza sulla grandezza dell'essere umano e quindi insomma noi a settembre ci saremo e ci saremo parlando del respiro il respiro è un tema che abbiamo desiderato trattare perché perché è molto legato a ciò che abbiamo vissuto perché poi dal primissimo vagito fino all'ultimo respiro è una specie di mantra silenzioso no è una tipo una preghiera fior di labbra che che ci attraversa e che ci porta nella vita e quindi il respiro e il respiro cosa ha a che fare col coraggio e la paura tanto molto a che fare con il libro di vito mancuso e chiunque abbia avuto il fiato mozzato dalla paura una volta che si sia sentito il cuore in gola lo sa così come chiunque abbia preso un grande un grande fiato per per centrarsi prima di lanciarsi in una qualche impresa un'impresa coraggiosa ecco anche chi ha fatto questo lo sa che respiro coraggio e paura sono molto legati quindi vito mancuso allora il coraggio e la paura io vorrei la prima cosa che vorrei domandarti riguarda riguarda proprio l'articolazione di questo titolo nel senso che poi spesso nei tuoi libri si instaura una tensione tra i due elementi del titolo no penso al certo al coraggio e la paura ma l'anima il suo destino dio il suo destino io e sono sempre delle coppie coppie anche apparentemente positive no uno potrebbe dire che sono in una in una tensione radicale però poi entrando nei tuoi libri uno si accorge che tu tratti sempre due i due estremi di una stessa catena per cui toccando uno di questi due estremi vibra anche l'altro quindi non c'è mai una posizione radicale manichea e immagino che anche in questo caso quando tu parli di coraggio e paura non parlerai della paura come di una macchia fastidiosa e del coraggio come la spugna che arriva immediatamente a lavarla suppongo che ci sia un livello di complessità maggiore e di questo ti domando ma io mi buonasera a tutti anzitutto a tutti quelli che non lo so quanti sono dietro quella lucina verde ciao io mi sono reso conto da tanto tempo ormai che dio positivo non c'è proprio niente sai armando nella di manicheo nella nella vita nell'esistenza ma che tutto è in relazione con tutto ed è una relazione certo a volte una relazione dialettica dura positiva a volte invece invece meno e così vale la questa regola diciamo che la regola aurea con cui guardare la vita che 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 pensa cioè al all'essere come tanti sistemi ogni cosa è legata a un'altra ed è in connessione con l'altro questa regola vale tale quale anche per il coraggio e la paura noi siamo appunto tutti tendenzialmente manichei perché ci siamo perché ci hanno formato così quindi pensiamo che la paura sia qualcosa di negativo e il coraggio qualcosa di positivo ma la prima cosa che io dico nel libro il libro parte con due tesi e dire che non è vero la paura non è sempre negativa il coraggio non è sempre positivo fatto che la paura non sia sempre negativa lo si capisce dal fatto che la paura può salvarci la vita la paura è un messaggio che cos'è la paura è un'emozione negativa che che ci proviene dai segnali di pericolo captati dalla mente tutto ciò che vive a una dimensione mentale cognitiva vivere significa compiere atti cognitivi e questi atti cognitivi producono informazioni queste informazioni vengono elaborate e ed emettono dei segnali alla fine quando queste informazioni emettono segnali negativi sia la paura quindi è il radar è un messaggio che ti dà la vita è un messaggio che gli antichi avrebbero detto ermeneutica nel senso che ermes è il dio messaggero che ti dà questa cosa quindi l'ermeneutica della paura capire di che cosa abbiamo paura di che cosa i livelli perché poi adesso magari non so che domande mi farai non ho idea ma io nel mio libro parlo di tre livelli della paura no tre strati tento di classificare ci sono proprio due cose cose di cose proprio diverse e capire queste cose significa capire chi siamo ma l'uno dice io chi sono penso sia importante per ciascuno di noi giungere a questa dimensione quella di questa non è neanche una dimensione giungere a questo punto nel quale porsi la domanda vitale io chi sono cosa voglio effettivamente ecco per rispondere a questa domanda che è difficile molto difficile la risposta a questa domanda il varco che le paure costituiscono per entrare dentro di noi e capirci perché cosa si tratta di tu sei tu che devi capire te stesso quindi e quindi uno non può se io devo capire una cosa mi sposto la guarda come faccio a spostarmi a guardarmi cioè di per sé non è ci sono dei metodi ma non sono questi metodi comunque va bene quindi la paura è qualcosa che può essere che può avere una dimensione positiva che ha una dimensione positiva e la stessa cosa il coraggio può essere qualcosa di negativo laddove il coraggio è temerarietà laddove il coraggio è quella dimensione di bullismo di macismo la paura la persona non ha paura di niente che arriva che fa che impone se stessa e che legata anche ai termini sia di virtus sia di arete arete ha molto che fare a una assonanza con dio ares il dio della guerra quello che risolve i problemi sbudellando i nemici insomma ecco quindi e quindi allora bisogna una circolarità che accompagna ogni fenomeno dell'esistenza ogni fenomeno dell'esistenza accompagna anche questa dialettica di paura e di coraggio hai parlato di hermes che quindi il dio messaggero tu effettivamente nel libro dice a un certo punto che la paura è un dio a parte che è molto divertente che nel tuo libro ogni tanto ci sono proprio delle tu dai forma concreta non so all'intelligenza al coraggio e la paura ci sono dei punti in cui dialogano fanno chiacchierano tra loro ogni tanto ma cade mi ha fatto pensare al cartone animato della pixar non so di disney pixar inside out non so se l'hai visto dove c'è la dristez eccetera comunque c'è anche questo adesso nello stile di vito mancuso ma tu dici che la paura è un dio però in che in che senso lo dici e perché non dire piuttosto allora che la paura è un mostro se vogliamo raffigurarla che la paura è un titano perché è un dio guarda è un dio nel senso classico del termine no che cosa dire anche tu accennavi un po all'inizio la questione allora per esprimere quale esperienza concreta di noi viventi e mortali al contempo la mente umana ha configurato il termine dio cioè qual è l'esperienza concreta dietro a cui su cui si basa questo termine l'esperienza concreta è quella di dipendenza e di attrazione ci sono realtà di fronte alle quali noi sentiamo che siamo dipendenti che sono più grandi di noi anche al contempo ci attraggono ci affascinano se la paura fosse solo qualcosa di più grande di noi sarebbe un mostro un mostro un titano è più grande di me un diavolo un demonio più grande di me mi devo e me ne devo proteggere ma la paura spesso questo nei livelli un conto è il timore un conto è l'angoscia un conto è il terrore cioè poi poi se mai entriamo e vediamo ma diciamo così a livello medio insomma la paura è anche un che di fascino di attrae non a caso insomma basta entrare in una qualunque libreria e ci sono o cineteca che sia e si vedono tutta una serie di prodotti che si basano sulla paura insomma per cui ma non solo anche questa esperienza del della chiusura lockdown chiamiamola come ci pare insomma di questa dimensione più di uno testimoniato il fascino cioè che quei giorni avevano sia avevo c'era paura ma c'era anche un sottile senso di sensazione di inusitato essere al cospetto di qualcosa di un esperimento mondiale di a suo modo di affascinante insomma di mai visto ecco e c'erano davvero nella città squarci di di silenzio di bellezza e di colli insieme naturalmente a tanto a tanta angoscia e oppressione e così via quindi la paura è un dio per questo motivo perché ha e perché è misterium tremendum ed è misterium fascinans per riprendere le due terminologie famose di con cui rudolf otto nel libro das heilige il sacro del 1917 va a connotare il codice genetico del divino è un misterium di fronte al quale tu hai paura tremendum è un genitivo da tremo tremare insomma ed è anche però fascinans cioè affascino ti attrae del resto che la paura sia un dio e concludo non è che sono io a dirlo sono stati gli antichi a sparta c'era un tempio dedicato al dio phobos l'iliade parla di phobos che era il figlio di 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 ares fratello di deima deimatos che è lo spavento quindi è sempre stata pensata la paura vista interpretata con una potenza 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 una potestà si phobos è figlio di ares e per la sua mamma è afrodite e quindi c'è c'è la dea dell'amore e quindi c'è un legame la paura quindi ha a che fare con con l'amore perché se no non si spiega questa figliolanza certo che ha a che fare con l'amore armando e più noi amiamo più noi abbiamo paura tu hai due figli io due figli e chiunque dei figli sa che cos'è per esempio è la e questa è questa questa è un insegnamento profondissimo della mitologia profondissimo fatto che phobos sia figlio di ares e di afrodite ares ma è appunto c'è afrodite come tu hai ricordato come anche io ricordo nel libro certo che così perché perché più c'è dimensione di amore e più c'è dimensione di darsi della della paura in una inchiesta del 2008 che io riprendo nel libro si si nel 2008 di un di un istituto il world social summit su tutta la popolazione mondiale ha preso dei campioni in tutti i continenti e hanno analizzato di che cosa hanno paura gli esseri umani di che cosa abbiamo paura sono emersi 19 che cause al primo posto primo posto ma dagli adoro della di ciò che ci fa paura nella perdita di persone care al primo posto poi c'è l'integrità fisica poi ci sono le paure economiche l'impoverimento ma c'è quello che fa più paura agli esseri umani la perdita di persone e quindi ecco l'amore che che entra in gioco ed è la passione io ho scritto un libro dal titolo il principio passione certo è la passione ci sono filosofie ci sono modi di pensare la vita che si ritraggono proprio sapendo che più ami più hai paura e allora tolgono l'amore tolgono patos apatia no togliere patos alle cose per cui dice io io sono indifferente indifferente ecco beh non è la mia filosofia io ho una filosofia di vita che crede all'amore e cosa dice che dice ma io non ma io non cerco la salvezza nell'indifferenza il fremito è la miglior parte dell'umanità per quanto il mondo faccia pagare caro il sentimento l'uomo quando è commosso percepisce l'immensità c'è questo fremito che è la cosa più grande ma tu tu fremi fremi senti fremi fremi tremare la stessa sempre la stessa cosa e quando si ama e tutti lo sappiamo quanto quanto è tuttavia e quindi hai paura e tuttavia se puoi toccare l'essenza più bella della vita non puoi non passare da lì e quindi per quello sono sempre insieme amore e paura visto che già due volte siamo passati vicino alla cosa i livelli della paura tu appunto hai accennato quali quali sono i livelli della paura che tu tematizzi nel libro guarda la cosa mi è venuta potrei prendere un libro alle spalle qua un dizionario analogico perché io amo molto le parole quindi mi sono messo a guardare un po le parole paura ci sono una cinquantina di sinonimi la nostra lingua è ricchissima nel libro io li elenco poi a un certo punto a me è venuto ma è possibile classificarli perché un conto è spavento un conto è allarme un conto è terrore un conto è timore a noi sembra tutto ma non è così e allora ho tentato di classificarli e sostanzialmente sono giunto a questa scala della paura così come c'è la scala dei venti la scala dei livelli del mare così c'è una scala della paura il primo livello è quando la paura è presente ma non è prevalente quindi è un timore un presentimento è come uno spiffero che si conclude in una preoccupazione quando uno quando a un certo punto diciamo beh adesso comincio a preoccuparmi no ecco questo questo livello qua qualcosa sottile presentimento ti un punto un timore diffuso per qualcosa poi c'è un secondo livello quando la paura diventa prevalente e tuttavia la controlliamo questo secondo livello ed è il livello che con una parola sola legata all'angoscia cioè quando la paura dà emozione che è il primo livello emozione che arrivano le emozioni arrivano cerchiamo potremmo anche chi chi vuole chi vuole un'emozione della paura potremmo farle a meno ma arrivano non è che che possiamo quindi arrivano le emozioni da emozione diventa sentimento è emozione sentimento nel linguaggio ordinario ci sembra la stessa cosa ma non sono niente la stessa cosa l'emozione e subitania sentimento è stabile il sentimento più lento ma una volta che si è che è arrivato si si posa ecco che il secondo livello quando la paura diventa un sentimento e si vive proprio come una sentinella al fronte sia sempre paura come don abbondio che tutto quello che è la più grande personificazione della paura della letteratura italiana e tutto quello che vedeva ed esperiva tutto immediatamente faceva paura perché è diventato un sentimento stabile del suo del suo essere e questo è il secondo livello quindi primo livello è la paura presente ma non prevalente secondo prevalente ma tuttavia in grado di poter essere controllata quindi il mio lavoro lo posso fare tremo ma tuttavia posso fare poi c'è il terzo livello quando la paura prende possesso di noi e sono tre termini lì che entrano in gioco sono orrore panico e terrore e ho riflettuto sul libro nel termine di panico che viene dal dio pan con tutto quello che questo significa essere in preda al panico e chi ci ascolta ricorderai le immagini dire di pan che vediamo nei musei archeologici vedi pan e uno dice ma questo l'ho già visto e certo perché questo dio che il dio pagano per eccellenza più pagano di tutte è stato utilizzato all'iconografia cristiana per per il demonio per satana proprio con il piede caprino le doppia corna e così via il pizzetto e così però pan in greco vuol dire anche tutto quindi dal dio pan si arriva anche a tutto quando il tutto della vita ti prende e ti prende e che cosa viene meno la protezione viene meno la distinzione tra te e il resto del mondo tutto il mondo ti conquista se imprega il panico se tutto che è ma il tutto del mondo è il niente tuo perché se non c'è la membrana cellulare dico per la cellula ma anche per noi la nostra il principio di individuazione ciò che ci distingue dalle altre cose se non c'è questo non ci siamo noi non c'è il principio di individuazione quindi e quindi e quindi ci sembra di essere sciolti completamente quando uno entra dal panico non è più non è più se stesso è in preda un'altra cosa appunto e questo è il massimo è la scala massimo è il terrore il panico è il massimo la scala massima si parte dal timore che è qualcosa di fisiologico e vorrei dire anche di salutare perché che ci sia un certo importanza del timore del di fronte alla vita cosa dice il libro dei proverbi 9 10 ma lo ripete anche sali salmi lo ripete anche siracidi il timore del signore il principio della sapienza ora chi non crede può anche togliere di mezzo il signore diciamo il timore della vita con la v maiuscola va bene il timore il timore dell'essere il timore di questa più grande energia dentro cui tutti siamo poi puoi pensare che ci sia dio che non ci sia comunque siamo al cospetto di potenze più grandi questo indubitabile ecco il timore di questa cosa il principio della sapienza perché se se non capisci che sei al cospetto di qualcosa di più grande e semplicemente pensi che il tuo ego possa essere tutto sei insipiente la sapienza vitale la sapienza come modo di vivere e di pensare comincia quando capisci chi sei e dove sei e al cospetto di cosa sei ecco questo è molto interessante perché poi spesso il momento biblico della teofania è abbastanza terrorizzante si accompagna alla frase non temere che io tra l'altro trovo sia una delle frasi più ansiogene che ci siano anche anche non temerai i terrori della notte io la trovo agghiacciante io immediatamente inizio a temere a tremare davanti ai terrori della notte ma però citi anche un'altra frase nel libro sempre da sempre un testo biblico qui dici chi non te chi teme però non è perfetto e come si coniuga allora che la sapienza del la sapienza sta nel timore del signore e d'altro canto però chi non ci teme non è perfetto come si incastrano questi due sentimenti non si incastrano è vero sì sì non si incastrano perché perché la bibbia se la leggiamo non in maniera dogmatica catechistica scolastica insomma come spesso viene fatta leggere in chiesa amministratica dove tagliano nelle letture tagliano i versetti per delle letture per far tornare tutto ecco se non si non la si legge in quella maniera lì con cui viene normalmente letta ma la si legge per quello che è e beh la bibbia non non ti fa costruire nessuna dogmatica ricordo il cardinal martini più di una volta queste cose le diceva studiamo la bibbia perché studiando la bibbia capiamo che la nostra dogmatica è paglia come diceva a tommaso d'aquino alla fine di tutte le sue opere cioè perché la bibbia contiene le contraddizioni per questo è bellissima deliberante e la leggi profondamente in quello che se fai emergere le contraddizioni non hai paura e c'è e ci sono per esempio dei dei libri e che sono in perfetta contraddizione con altri e ci sono delle dei libri per esempio come questo che in generale la sapienza della bibbia ebraica che induce ad avere timore e ti dice devi avere avere timore ma anche l'apostolo paolo dice di parlare di avere di servire il signore con timore e tremore dice nella lettera ai filippesi timore e tremore e kirk e gorde riprenderà l'espressione no nel famoso saggio su abramo di genesi 22 intitolato precisamente timore e tremore quindi devi avere timore e tremore questa cosa e c'è l'apostolo giovanni che nella prima lettera giovanni dice che no che non bisogna temere che avere questa paura di dio significa essere imperfetto perché hai una visione di dio appunto non non adeguata perché dio è amore quindi non puoi avere paura di dio chi ha ragione ovviamente tutte e due le cose vanno adesso il tempo è quello che è ma vanno vanno tenuto insieme no c'è una dimensione di giusto timore nei confronti della vita che siamo al cospetto di potenze di cose abbiamo paura per noi per i nostri figli per i nostri cari per il nostro paese per la nostra italia per il pianeta chi è che è saggio e non sente paura di fare queste cose sarebbe un incosciente un temerario una persona senza e al contempo però esiste una maniera di stare al cospetto di dio che è pieno di paura e che tratta dio come un potente della terra e quindi giustamente l'apostolo giovanni diceva chi teme non è perfetto nell'amore si tratta di relazionarsi a dio in una maniera diciamo quasi come un bambino che si affida nei confronti della madre essere tranquillo e sereno come dice un altro salmo di 131 bisogna tenere insieme queste due cose ma come sempre le cose grandi della vita sono dinamiche sono circolari come tu hai ricordato all'inizio dobbiamo sapere che che non c'è niente che se tu prendi affermi di quello che le cose stanno così ma perché la vita è un film non è una fotografia che la fermi no sono tante fotografie che è un film e la saggezza sta nel capire nel muoversi continuamente questo è un film di paura come si dice a volte senti ma beh a parte che da quello che hai detto di sul sul temere non temere dio immagino che tu non non consideri ciò che è accaduto nei mesi scorsi come un divino castigo quindi non sto neanche a domandartelo invece mi interessa il discorso del proteggersi che tu hai trattato perché quello è proprio così è tanto ancestrale quanto è ancestrale la paura io penso che dal momento in cui l'uomo è sceso dall'albero conquista la posizione retta sei un po più alto dei cespugni sei molto più esposto e credo che da lì inizi un'epopea di paura che si che si aggancia all'uomo lo morde al collo e non lo lascia più e quindi il desiderio di protezione però il desiderio di protezione è molto sano quanto potenzialmente anche benefico nel senso che c'è una linea molto sottile che divide il proteggere se stessi dal dal richiudersi tu dove la individui questa linea e come si fa sorvegliarla grazie per le domande armando sono proprio belle guarda venire in mente quella cosa che dice ivanka ramazzo il diavolo dice a ivanka ramazzo nei fratelli caramazzo e dostoev che dice ah com'è com'è bello conversare con una persona intelligente insomma vabbè tu hai parlato hai preso la cosa dal punto di vista della della filogenesi no la nostro film che siamo scesi dall'albero noi ci potrebbe prendere anche dall'ontogenesi perché io penso che tu e te ci siamo scesi dall'albero io penso siamo usciti dal grembo materno io penso che quando siamo usciti dal grembo materno proprio la prima emozione che la vita c'è c'è ci abbia riservato sia stata la paura penso poi può essere più forte o meno forte insomma a seconda dei come solido come è andato il parto eccetera ma penso che per tutti l'essere sbalzati fuori da quel posticino tranquillo dove eravamo stati per nove mesi accuditi sereni così dietro di trovarci tutti fuori da dire anche certi bambini ricordo quando erano nati i miei figli vedere i volti insomma loro e anche degli altri proprio rossati tirati cosa cosa significa venire fuori la paura è questa certo e e tu dici quindi protezione ma è chiaro è chiaro noi uno dei bisogni proprio esattamente per questo una delle cose più radicali è il bisogno di sicurezza è una delle cose forse il bisogno numero uno il bisogno di sicurezza che noi che noi abbiamo cioè così radicato questo bisogno di sicurezza che gli esseri umani barattano anche la libertà per il bisogno di sicurezza le dittature si spiegano così sapevano benissimo votando un certo faccio riferimenti al passato per evitare ecco c'è chiaro ma sapevano benissimo no che votando adolfi tra le tedeschi avrebbero ottenuto meno libertà ma ma sapevano anche che avrebbero ottenuto pensavano più sicurezza poi sappiamo bene che tipo di sicurezza è stata con la più grande devastazione della germania e parliamo anche della devastazione dell'italia che ne è conseguita perché la stessa cosa abbiamo fatto noi votando mussolini va bene però però tornando al punto sì certo c'è bisogno di c'è bisogno di sicurezza chiaro che sì che c'è bisogno di sicurezza ed è qualcosa da prendere molto sul serio molto sul serio sia a livello politico sia a livello psichico psicologico spirituale e così via perché perché noi siamo fatti di cellule e io penso che molto spesso che sia come dire per capire l'organismo io posso già semplicemente ragionare sulla cellula com'è la mia cellula è protetta la mia cellula le cellule che costituiscono la mia pelle qualunque cosa che c'è dentro di noi certo che sì hai la membrana ma com'è la protezione è qualcosa di chiuso no è aperta è permeabile la membrana quindi c'è bisogno di protezione che non rispetto aristotele no tra un bisogno di individuazione e di protezione che c'è in tutti non ripeto qualcosa di fisiologico chi lo nega sbaglia semplicemente sbaglia è un bisogno di relazione che perché tutte le cellule possono vivere esattamente perché si relazionano a e trasmettono tutte le quelle le sostanze che 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 trasmettono perché si trasmettono con a con altre cellule e così la nostra pelle ci protegge ma ci protegge essendo aperta rispetto a traspira eccetera eccetera noi noi siamo noi abbiamo un'identità ma siamo noi perché siamo in relazione e quindi io così la ve la vedo poi è chiaro che a livello politico a livello psichico a livello di identità spirituale a livello di filosofia ciascuno poi deve interpretare nel concreto questa che è la diciamo la visione filosofica generale e se tu a un certo punto c'è davvero il grande inquisitore c'è proprio il tema della libertà che è la cosa che più spaventa l'uomo e quindi dice il grande inquisitore noi la metteremo sotto protezione e il gioco è fatto ma volevo chiederti un'altra cosa invece l'ultima volta che noi ci siamo visti pre covid è stato per parlare di bud e nel budismo si dice di prendere rifugio che è una frase che so che ti piace molto volevo chiederti dove tu prendi rifugio bravo bello guarda io amo molto io non sono buddista pur amando tantissimo il buddismo eppure eppure prendendo rifugio anche nel buddha devo dire c'è questa frase che i buddisti ripetono prendo rifugio nel buddha nel dharma e nel sangha ecco io sento che posso rifugiarmi perché in chi mi rifugio io beh mi rifugio nel nel divino non chiamo neanche dio perché ormai il dio diciamo personale di cui non io non credo che dio sia impersonale ma penso che non sia neanche personale come la intendiamo penso che sia una dimensione dove il personale e l'impersonale si 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 sciolgano e si ecco e adesso se uno pensa veramente la trinità come fa a essere personale nella misura in cui c'è 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 un'unità di tre persone con questo questa unità delle tre persone non può essere un unus perché altrimenti sarebbe chiaramente subordinazionismo perché l'unus del padre subordinerebbe a sé l'unus cioè la persona del figlio la persona dello spirito e che quindi se c'è un'unità delle tre persone non può essere al maschile deve essere unum ma forse quindi neutro ma forse è sbagliato parlare di unum nel senso di neutro perché noi dovremmo avere come insegnava io l'ho capito l'ho sentito da pannica dovremmo avere un genere che non sia come il neutro che si dice che dice neutro cioè né maschile né femminile ma dovremmo coniare un genere che dica sia sia et et perché il neutro nega è una cosa che non è né maschile né femminile e noi dovremmo trovare una maniera grammaticale di esprimere la sintesi relazionale di personale e impersonale di maschile qualcosa che ecco quindi io io sento ma del resto non è che sia un originale in questo è perché tutti i grandi mistici hanno sentito che dio è dove non non giunge la comprensione cioè voglio dire gregorio di nissa quarto secolo dopo cristo uno dei primi teologi mistici dice così nella vita di mosei dio abita da dove non giunge la comprensione e agostino ripeteva se comprendi non è dio e quindi cioè se uno capisce che quindi parlo del divino ma non divino ecco e quindi prendo rifugio certo io credo credo nel che non siamo soli credo che esista una una forza che 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 plasma l'energia fondamentale che da che la informa che che esprime quel che l'attrae e che attraendola crea questo concerto di relazioni che all'inizio si dice come sistemi come atomi e poi come molecole e poi come organelli cellule così via fino all'organismo alla vita l'intelligenza al cuore io non penso che non riesco a credere che tutto questo sia cedere sia di c'è caso è andata così no io francamente mi sento figlio del caso io mi sento figlio di un non vorrei dire neanche di un progetto perché è qualcosa che è stato pensato da quella mente divina personale a cui normalmente insomma mi sento figlio di un laboratorio dentro cui io sono tutto che sale così quindi è un progetto che si fa non c'è già qualcosa che si va realizzando per cui c'è un progettista no non dico questo ma dico che c'è tutto qualcosa che si fa anche il divino si fa mediante il nostro palpitare il nostro il nostro sentire tant'è che io penso che l'assoluto non sia dio ma penso che sia il regno di dio il vero assoluto dove anche il divino viene 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 a farsi insieme a tutto questo fremere per riprendere goethe questo 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 fremere dentro cui siamo questo con la comunione dei santi e questa è questa cosa così e quando buddha parlava del nirvana cosa intendeva dicendo che non essere e quindi non è un dio come lo pensiamo ma non è neanche non essere cioè nel nulla che cos'è questo nirvana è appunto cade la cade la cade la maniera di dirlo ma non è il nulla il nihil il vuoto la fine di tutto non è vero non è la terza della nobile verità è che c'è la realmente la salvezza dalla sofferenza c'è la salvezza di qualcosa su cui tutto il senso del bodhisattva e così via va bene senza entrare troppo tecnicamente in queste cose quindi e poi credo nei santi prendo rifugio nel divino poi prendo rifugio per esempio perché dicevo nel buddha certo perché per me il fatto che sia esistito che sia esistito una persona così così generosa così intelligente così radiosa così libera da sé così solare e così bella provisano una bella persona come siddhartha gautama shakyamuni che cos'è e che sia esistito marco aurelio che sia esistito plottino che sia esistito gregorio di nissa oppure beethoven oppure leopardi oppure giovanni falcone oppure paolo borsellino oppure rosario olivatino in chi prendo rifugio io ma in questa in questa capacità dell'umanità di produrre anime belle a volte sono sconfortato ma chi non lo è di noi sei sconfortato no ti viene guardi pensi dice mi aiuta eppure eppure non cadiamo nell'errore di pensare che l'umanità sia quella cosa che emerge guardando non è vero non è vero quando uno se uno dovesse capire che cos'è la musica non è che accende la prima radio radiolina è la primo canale che li ascolta sente quella no se uno vuole capire che cos'è la musica va da joan sebastian bach o da beethoven o da chopin o da chi vuoi dei grandi va dai grandi se uno volesse capire cos'è la pittura non è che i primi i primi disegni a caso così dice la pittura quella cosa no ma da grandi va da raffaello da michelangelo da rembrandt da monet eccetera eccetera dai grandi e così pure se uno vuole capire cos'è l'umanità non è che va dai da da come diceva sciascia che gli uomini si dividono ci sono gli uomini i mezzi uomini uomini icchi piglia in culo e qua 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 ecco uno se guarda i mezzi uomini gli uomini icchi piglia in culo e qua 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 che sono i quattro quinti certo dice sono così calma c'è anche un quinto a cui ci sforziamo così come possiamo di appartenere che sono gli uomini e se poi all'interno di questi uomini guarda i giusti quelli che gli ebrei chiamano i giusti o i santi o i venerabili i beati i saggi i sapienti dice che cos'è l'umanità eccola lascia perdere gli uomini i mezzi uomini gli uomini icchi i cuocore lasciali perdere guarda quella cosa ecco chi sono a che dovremmo indicare ai nostri figli e a noi stessi quando siamo sconsolati chi sono quelle e io prendo rifugio in questo ce li ho qui di fianco a me sono i libri del cuore e mi guardo le guardo guardo i loro nomi i loro titoli le coste dei libri così e vedo che ecco chi sono che cos'è l'umanità e prendo rifugio in queste cose intanto Vito il signor Nicola che io vedo anche c'ho la chat lì ci dice io prendo rifugio in lei professore c'è di meglio grazie Nicola comunque senti volevo chiederti ancora beh abbiamo anche accennato al periodo che abbiamo vissuto e adesso è una delle caratteristiche appunto più che più suscitavano timore e fascinazione però contemporaneamente da questo grande silenzio che effettivamente io ricordo che all'inizio mi faccio da sentire veramente spaisato perché io vivo su una strada piuttosto rumorosa e quindi era straniante e quindi insomma mi sembrava che aumentasse il mio senso di prigionia poi però a un certo momento è cominciato a diventare qualcos'altro è diventato anche un po' stranamente una specie di in cui risuonava la fiducia in questo silenzio non so dirti perché era più una risonanza interiore forse era un eco di qualcosa però mi faceva mi rassicura un certo punto ho iniziato a rassicurarmi volevo domandarti se tu pensi che tra il silenzio e il coraggio ci sia una qualche forma di relazione io penso proprio che ci sia e sia molto importante vedi una delle cose che io mi chiedo nel mio libro è da dove prendiamo il coraggio e sono giunto in un paragrafo a elencare le diverse forme del coraggio affrontando la grande obiezione che ha il coraggio che è l'obiezione che dona abbondio che è la più grande personificazione della paura della letteratura italiana appunto rivolge al cardinal Federico quando è fatto quella lavata di capo perché non aveva fatto il suo dovere e diciamo un signore uno se il coraggio non ce l'ha non ce lo può dare da sé è vero? Io penso di no, penso che non sia vero penso che sia... guarda io... mi è appena arrivata oggi questa è la prima... mi è arrivata oggi la copia del mio libro è la prima volta che lo tengo tra le mani e ho voluto iniziare questo libro con due frasi di due persone a me molto care per ovvi motivi, Falcone e Martini Martini l'ho conosciuto abbastanza bene, Falcone no comunque... Falcone, la frase di Falcone è questa dice l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa ecco il coraggio è questo altrimenti non è più coraggio è inconscienza cosa vuol dire? diceva Falcone nel 91 Marcel Padovanì e l'anno dopo sarebbe morto e sapeva benissimo cosa rischiava aveva già avuto un attentato insomma sapeva tutto cosa dice? dice che appunto noi il coraggio ce lo possiamo dare ebbene cosa c'entra col silenzio? ma secondo me il silenzio è uno dei tre ingredienti decisivi per venire a patti con la paura perché non si tratta di vincerla la paura sai Armando si tratta di trasformarla la paura è un messaggio quindi non si tratta di vincerla sì magari il panico, il terrore quella cosa di... ma soprattutto si tratta di trasformarla di capire questo messaggio e trasformarla e come lo si trasforma? attraverso la saggezza la saggezza e perché ci possa essere saggezza? ci deve essere intelligenza e perché ci sia intelligenza ci deve essere la mente che si posa tranquilla e perché ci sia la mente che si posa tranquilla occorre il silenzio esteriore ed interiore se non c'è questo silenzio che si posa sulle cose sui fenomeni su noi stessi c'è sempre questo rumore interiore tu magari abiti in una strada silenziosa ma uno può stare nella strada meno trafficata del mondo ed essere nel paesino il più remoto e avere dentro rumori e rumori incredibili o viceversa uno può essere nel pieno della città e dentro essere silenzioso avere silenzio perché è un silenzio interiore questo silenzio interiore è quella possibilità che ti permette di posare l'intelligenza calma e tranquilla sui fenomeni e capirli e quando si capisce si diventa consapevoli e quando si diventa consapevoli si diventa si intellige si capisce si entra in profondità si diventa consapevoli e la paura diminuisce già solo fatto che uno ha paura e uno dice a se stesso ma guarda che sto avendo paura già solo quel tornare su di sé dicendo ma sto avendo paura oppure viceversa mi sto arrabbiando insomma le emozioni diverse emozioni che si possono avere sono triste già il fatto che uno prenda la tristezza già solo quella consapevolezza ti dà uno stacco rispetto alla tristezza rispetto alla paura rispetto alla rabbia che sono tre delle sei emozioni primarie e viene meno quindi il silenzio è decisivo assolutamente decisivo io sono figlio spirituale del cardinale Carlo Maria Martini figlio della tua città di Torino questa città che tanto dà e adatto all'Italia in termini di pensiero pensiero religioso pensiero filosofico veramente sono quando torno a Torino e sono contento di tornarci per Torino spiritualità sono sempre molto ma davvero lo dico non è captazio benevolezza e lo dico insomma che è così ci sono terre che sono più ricche di altre non c'è niente da fare non so come mai ma per certi punti da certi punti di vista il Piemonte è una terra che dal punto di vista della spiritualità è più ricca di altre non ci sono dubbi per altri aspetti magari altre sono più ricche del Piemonte ma dal punto di vista del pensiero della spiritualità è una delle terre più ricche che abbiamo nel nostro paese ebbene Carlo Maria Martini piemontese torinese diceva questo la dimensione contemplativa della vita e gli parlava dell'ansia in quella lettera che lui scrisse nel 1980 entrando a Milano dove io ero lì io ero stato mandato dal mio prevosto con il treno che la diocese aveva fatto aveva preso due tra i ragazzi diciamo più in vista nel senso che me il mio amico il mio caro amico Giovanni ci aveva mandato a fare anche noi le veci della parrocchia di Caratebrianza e quindi va bene lo conobi lì e poi lo seguivo sempre ricordo bene quella lettera pastorale del 1980 lui diceva l'ansia è presente nella vita di tutti noi ma la possiamo sconfiggere tramite appunto la dimensione contemplativa della vita è lì che ho capito l'importanza del silenzio per sconfiggere la paura è terapeutico il silenzio però lo ripeto si tratta di un silenzio esteriore ma soprattutto interiore e riuscire ad avere il silenzio interiore non è che uno dice ecco adesso sto in silenzio e no è lavoro è una virtù è un lavoro si chiama mindfulness oppure meditazione oppure preghiera oppure preghiera del cuore esicasmo chiamate chiamate ognuno la chiama insomma è correre allenarsi a fare questo aggiungere lì si è complesso perché poi è sempre un po' in cui tu in qualche modo raggiungi stesso però contemporaneamente tu devi anche François Julien direbbe decoincidere da te stesso cioè creare quella faglia che ti consente di di riarmonizzarti perché se sei già tutto bello compattato c'è poco da riarmonizzare il dinamismo viene meno è così è così lo diceva già Platone che ci sono due anime in noi e perché diceva quello parlava di due in uno io sono due in uno appunto è certo ma è così è così tutti gli osservatori del fenomeno umano hanno capito questa e quella dimensione lì sì sì immagino insomma lì lo spazio della libertà Vito noi purtroppo abbiamo finito il tempo mi dispiace perché c'erano ancora tante cose che avrei voluto domandarti ma così non spoileriamo tutto il libro come si dice e così insomma chi ci ha ascoltato avrà il piacere di ritrovare alcune delle riflessioni che tu hai fatto adesso e trovarne anche molte altre dentro al libro quindi io ti ringrazio molto per essere stato con noi grazie a te davvero Armando delle domande che mi hai fatto dell'invito è stato bellissimo come sempre parlare con te grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito dietro quella lucina verde e che spero torneranno a vedere le spiritualità perché noi a settembre avremo di nuovo la gioia di averti con noi e invito tutte le persone che ci ascoltano ad aiutarci anche come Torino Spiritualità mantenere il senso di comunità cui noi teniamo molto quindi aiutarci a informarli quindi potete iscrivervi alla newsletter sul sito del circolo dei lettori di Torino Spiritualità per raggiungervi e dirvi se facciamo altre anteprime altri incontri estemporanei ma poi preziosi bellissimi insomma come come quello che abbiamo appena avuto grazie mille Vito ci vediamo presto spero e grazie a voi arrivederci ciao